È stato fissato per le 17 il calcio d'inizio dell'amichevole Castelnuovo-Lucchese in programma giovedì 25 luglio allo stadio Alessio Nardini. Sarà la prima uscita della nuova lucchese di Giorgio Gorgone, opposta alla locale formazione giallo-blu del neotecnico Andrea Gatti. I Garfagnini, ancora in fase di completamento dell'organico, giocheranno in eccellenza. Alla gara potranno assistere anche i tifosi. Nei prossimi giorni sarà la società rosso-nera a comunicare prezzi e modalità di acquisto dei biglietti. Intanto, dopo una settimana di lavoro nel ritiro del Centro Turistico Internazionale del Ciocco di Castelvecchio-Pascoli, la Rosa, attualmente a disposizione di Gorgone, ha lavorato intensamente, a ritmo di due sedute al giorno, domenica compresa, per farsi trovare pronta per le prime gare ufficiali. L'amichevole con il Castelnuovo-Garfagnana chiuderà la prima fase della preparazione, che proseguirà fino al 10 agosto sul campo di San Giuliano Terme. Poi la truppa si sposterà a Saltocchio. In mezzo, il 2 agosto, deve essere ancora ufficializzata l'amichevole di lusso con la Fiorentina di Palladino, che dovrebbe essere disputata al Viola Park. Palladino, che dovrebbe essere disputata al Viola Park.